Grazie a tutti. Io ho insegnato fin da bambino, io sono nato a Cremona e poi sono stato strappato da Cremona, di trovarmi su questo palco con uno spartito. Eccoci qua, finalmente. E cerchiamo di tradurre alcune note in qualche parola e in qualche immagine. Vedete questa immagine che è proiettata dietro di me? Penso che vi sia nota. Io l'avevo appesa nella mia cameretta da ragazzo, da liceale, ed è stata la mia occasione per riflettere più o meno consapevolmente sulla complessità che è diventata il mio daimon, la mia passione, la mia ossessione che mi ha portato al mio studio, alle mie riflessioni. Vedete, questa poi è un'immagine di un quadro di Maurice Escher, un grande artista del Novecento. Ed è diventata una sorta di icona della complessità. Ma perché? Perché rende visibile la caratteristica principale della complessità. Qual è la caratteristica principale della complessità? È la circolarità. Cosa vediamo in questa immagine? Vediamo uno strano anello, una mano che disegna una mano, e però la mano disegnata a sua volta disegna la mano che l'ha disegnata, che a sua volta disegna la mano che l'ha disegnata e così via. Vedete, non ci sono ben distinte due mani, una mano che disegna e una mano che è disegnata. Non c'è da una parte una causa e dall'altra un effetto che ne consegue, come in una linea che ha una direzione, come in una freccia. Ogni mano è nello stesso tempo sia causa che effetto dell'altra mano. Insomma, c'è una danza fra le due mani, una danza fra le due mani che fa sì che emerga, si crei, un mondo complesso. Ma perché complesso? Abbiamo sentito, io provo un'altra etimologia, complesso deriva dal verbo latino plectere, intrecciare vuol dire, più cum, insieme. intrecciare tante cose insieme in una unità, più volte nel tempo. Sì, perché ci vogliono tante parti, tante parti che interagiscono fra di loro, tanti attori, tanti danzatori, danzatrici, che interagiscono fra di loro, ma ci vuole anche tanto tempo per fare emergere la complessità. La complessità è una danza che crea un mondo. Se finisce la danza, finisce la complessità. L'abbiamo già detto. L'opposto di complessità non è semplice, è complicato. Ciò che è complicato può essere semplificato, può essere scomposto nelle sue parti, poi può essere ricomposto come un grande lego, oppure come un giambo, un aereo complicatissimo. La semplicità, invece, può essere la manifestazione di una straordinaria complessità. Pensate allo strizzardocchio che ammicca. Quanta complessità produce questo gesto di ammiccamento semplice che crea un'intesa più pregnante, più profonda di tante parole. Può essere semplice come una danza a cui assistiamo da questo splendido palco, che può apparire semplice, armonica, ma quanta complessità, quanto intrecciare, quanto completere produce un gesto, un'armonia tanto semplice. Ma complessità è il concetto principale della scienza contemporanea in tutti i campi, anzi la parola complessità è venuta in auge proprio attraverso le scienze, e in particolare attraverso le scienze della natura, non attraverso le scienze umanistiche. Hanno cominciato le scienze della natura, la fisica, la chimica, la cosmologia, a rivelare la complessità dei nostri mondi, dall'universo a quelli infinitamente piccoli, più piccoli dell'atomo. E che cosa ci dicono le scienze? Ci dicono questo. Avevamo potuto pensare che i mondi naturali, da noi studiati, fossero dei meccanismi perfetti, dei meccanismi complicati, appunto, retti da leggi inflessibili. E quindi in linea di principio dei meccanismi prevedibili, controllabili, con la scoperta di queste leggi attraverso la conoscenza scientifica. Avevamo potuto pensare che l'incertezza, che ovviamente fa parte della nostra esperienza, anche dell'esperienza di noi scienziati, fosse dovuta soltanto all'imperfezione delle nostre conoscenze. Un'ipotetica conoscenza onnisciente avrebbe dissolto l'incertezza che appare nei nostri mondi. Ma non è così. E che non è così, ce lo dicono oggi le stesse scienze della natura. Non c'è bisogno del libero arbitrio umano per trovare l'incertezza nel nostro mondo. Le scienze ci dicono che la maggior parte dei mondi naturali sono piuttosto delle danze che creano mondi non prevedibili nel loro decorso. In questi mondi, di volta in volta, le cose sono andate in un certo modo, vanno in un certo modo. E certo, a posteriori, di fronte a qualcosa che accade in natura, possiamo capire perché le cose sono andate così, o sforzarci di capire. Potremo capire. Ma le cose potevano andare in tanti altri modi differenti. E questo a causa della complessità, cioè del continuo intrecciarsi, complettere fra le parti. C'è una metafora, come le immagini, le metafore, sono più precise, più profonde, persino delle formule matematiche. C'è una metafora che rappresenta bene questa idea della complessità. E ci è nota, penso a tutti. La propose un matematico, era un meteorologo soprattutto, esattamente 50 anni fa, Eduard Lorenz. La propose proprio per indicare la complessità del sistema meteorologico, nel quale, appunto, tutto è connesso con tutto, tutto si richiama con tutto. È la metafora dell'effetto farfalla. Il battito d'ali di una farfalla sul cielo di Tokyo può avere effetti importanti sul tempo che farà New York pochi giorni dopo. Una piccola, trascurabile causa, un piccolo, trascurabile evento, come il battito d'ali di una farfalla, di solito, di pertinenza, dell'immaginazione dei bambini, dello stare insieme degli innamorati, dei versi di un poeta. No, una piccola, trascurabile causa, come il battito d'ali di una farfalla, può avere effetti enormi, lontani, nello spazio e nel tempo. Bene, questa complessità caratterizza anche il senso profondo del nostro tempo, del tempo che viviamo. Siamo come in un disegno di Escher. Nel mondo globale tutto è connesso e questo è rivelato bene dalle crisi che stiamo vivendo. Il cambiamento climatico, la pandemia, la guerra, tornata drammaticamente in una piccola regione dell'Europa e che in pochi giorni ha trasformato come un effetto farfalla il mondo intero. Il battito d'ali di una farfalla di un microscopico virus sul cielo della regione di Wuhan, in Cina, può avere effetti importanti, l'abbiamo vissuto, sul tempo che farà a Cremona e poi nel mondo intero, pochi giorni dopo. La crisi della pandemia che abbiamo vissuto in questi tre anni si è manifestata come uno strano anello simile a questo disegnato da Escher. Ma qui le mani sono tante, non sono due. È un anello fatto di tante mani intrecciate che non possono essere separate le une dalle altre. La crisi della pandemia, certo, è una crisi sanitaria, l'abbiamo sofferta, temuta, ma è nello stesso tempo tante altre crisi. È una crisi ecologica, che è una crisi scientifica, è una crisi economica, antropologica, psicologica, esistenziale, spirituale. E ogni crisi disegna, diciamo così, le altre crisi che a loro volta disegnano le crisi che le hanno disegnate e così via, come in un complessissimo disegno alla Escher. E anche in questo caso la sfida della complessità si impone, innanzitutto, come impossibilità di semplificare di semplificare un tessuto inestricabile di concause e di interdipendenze. Sì, perché ormai nel tempo della complessità, che è il tempo globale, viviamo in una ecumene completamente umanizzata, antropizzata, diciamo noi professori, che è la Terra, dove ogni evento locale, come il battito d'ali di una farfalla, può comportare conseguenze che si amplificano su scala globale. Perciò un mondo complesso è un mondo inevitabilmente incerto. Ma questo fatto non ci rende impotenti e soprattutto non deve portare alla rassegnazione. Piuttosto, questo mondo complesso mette in gioco la nostra responsabilità. Sì, perché? Perché la nostra responsabilità oggi si è stesa verso nuovi ambiti, verso le specie viventi, verso la biodiversità, verso gli ecosistemi, verso il pianeta nella sua interezza. E la nostra responsabilità si è stesa verso la possibilità della stessa sopravvivenza della nostra umanità, della nostra specie nel futuro. Ed è questo il dramma, la spada di Damocle che pesa su di noi in questi giorni in cui drammaticamente è diventato possibile l'uso delle armi nucleari, in cui è già diventata realtà il cambiamento climatico che mette a repentaglio in un futuro non troppo lontano la stessa sopravvivenza della nostra umanità. oggi, a motivo della potenza tecnologica e della interdipendenza planetaria, cioè appunto della complessità, dell'intreccio di tutto con tutto, è diventato disastroso, è diventato potenzialmente suicida continuare la semplificazione in cui ciascuno vince a spese degli altri. Le nazioni vincono, presumono di poter vincere a spese delle altre e in cui l'umanità intera presume di poter vincere a spese della terra, della biosfera. Per la prima volta possiamo perdere tutti insieme. Il rischio inedito, nuovo, è che ci possano essere non più vincitori e vinti da una parte e dall'altra ma solo vinti. Allora, per concludere, il virus, il clima, la guerra, che cosa ci rivelano? ci rivelano che la solidarietà, in qualche modo sinonimo di complessità, la solidarietà è ormai una necessità imposta dalla complessità della condizione umana nel tempo globale. Siamo accomunati da uno stesso destino, siamo accomunati dagli stessi pericoli, dagli stessi problemi di vita e di morte, è un destino che accomuna fra loro tutti i popoli della terra e ricordiamocelo oggi, che accomuna fra di loro l'umanità intera con la terra stessa. Nessuno si può salvare da solo nel tempo della complessità. Come è stato detto, siamo tutti sulla stessa barca, ma per orientare la rotta di questa barca abbiamo bisogno di cambiare gli occhiali con cui guardiamo il mondo, abbiamo bisogno di occhiali che ci consentano di vedere la complessità del nostro mondo, di un mondo in cui tutto è connesso per poterlo abitare in un modo non autodistruttivo e questa lo dico a tutti noi, lo dico in particolare ai ragazzi e agli insegnanti che sono qui numerosi, è una straordinaria sfida per la nostra educazione. Grazie. Grazie.